20, destra 5, sinistra 3, 50, inversione destra, scende 20, sinistra 5, per sinistra 4 tieni, 30, destra 5 lunga, 80, accenno destro e sinistro, 100 vista sinistra 4 subito, attenzione, sinistra 2, vuoi fare il coglionazzo, 250 vista sinistra 6 lunga, 2 tempi, 100, al tetto chicane, entra destra 3 volte 150, inversione sinistra, cambio 20, destra 5, 50, destra 6, per sinistra 3 meno, 30, destra 5, 20 alla pianta, sinistra 5 lunga, paraceno destro 100, vista, destra 2, cambio 20, sinistra 5, 30, attenzione, sinistra 2, no 20, destra 2, in sinistra 3, 30, accenno sinistro per destra 5, 20 destra 4, 50, accenno destro 50, alla pianta, sinistra 4, 100, sinistra 4 più 50, sinistra 4 meno 50, attenzione al cancello, destra 5, per sinistra 3 più, salutare Cristoforo, meglio di 3, bravo destra 4 più le 3, 20, accenno destro per arraia, sinistra 4 lunga, tieni attenzione 10 su dosso, sinistra 3 meno, sporca 3 meno sporca 100 alla casa destra 4 meno 4 meno per accenno sinistro in al muro, destra 2, gira 20 inversione destra, cambio 50 su dosso attenzione, sinistra 4 lunga su dosso per ancora sinistra 4 lunga, 30 alla vigna destra 4, 50 attenzione, sinistra 5, 30 stretti, accenno destro 50 chicane tra sinistra accenno destro 50 su dosso al palo sinistra 5, subito destra 4 lunga, apre 50 attenzione, sinistra 5, dentro chicane tra sinistra 50 su dosso sinistra 4, tieni no, lunga 20 sinistri, attenzione, dosso sinistra 4 scende per destra 3 tieni lunga, 50 inversione sinistra, leva 20 sinistra 5 su dosso, 30 scompone sinistra 2 tieni, chiude qua, chiude per destra 4 lunga, subito destra 2 20 destra 4 taglia, 20 sinistra 5, 100 sinistra 5, 50 attenzione, sinistra 2, in destra 2 meglio di 2 sinistra 4, 20 destra 3 per accenno sinistro, 30 sinistra 5, per accenno destro 50 alle piante sinistra 6 pera sinistra 5, 20 destri al bianco sinistra 2 dai che ci stai, dai 30 sinistra 3, lunga 30 sinistra 3 più per destra 3 lunga, chiude 2 chiude 2 occhio all'interno in sinistra 2, no 20 cerno destro e sinistra 2 legna destra 2 meno 30 sudosso in attenzione destra 3 meno taglia, sporca per sinistra 4 lunga, chiude 3, sudosso pianta sinistra 6 lunga lunga rosso sinistra 5 meno, 80 palo destra 3 più 3 più 30 sinistra 4 10 sudosso in attenzione destra 3 subito sinistra 3 meno dai, dai 50 attenzione destra 2, no 20, tornante destro, gira per sinistra per sinistra 3 lunga, chiude 2 chiude 2 per destra 3 20 accenno sinistro 100 alla pianta destra 5 50 150 vista attenzione stai a sinistra sinistra 3 meno, sporca lunga 30 accenno destro e sinistro in destra 3 meno 3 meno subito destra 2 accenno sinistro e destro lungo, subito sinistra 2 20 di Grazie a tutti.